L'ok del Ministro del Lavoro ci sarebbe già anche se manca la firma formale. Per i lavoratori dell'ILVA si andrà avanti con i contratti di solidarietà e dunque scompare lo spettro della Cassa Integrazione. I commissari in un incontro svoltosi a Roma nella sede della società hanno dato il loro assenso. Adesso stiamo facendo delle verifiche col Ministro del Lavoro ma io penso che siamo indirizzati per la Stata per mantenere la società. L'incontro questa sera ci consegna, pur in una complessità, un quadro che ci consente di poter governare questa fase complicata fino a quando non arriveremo alla realizzazione dell'ANUCO che è il punto vero di svolta. Contratto di solidarietà sì, CIG no. Esattamente, l'azienda si è dichiarata disponibile a mantenere chiaramente essendo l'alto formale del Ministro del Lavoro che consente. Mancano i numeri certi, anche perché molto dipenderà dalla chiusura dell'alto forno 5. Garanzie però sono arrivate per gli stiveni di gennaio che verranno regolarmente pagati. Ci sono state alcune chiarificazioni su una serie di alarmismi che nelle settimane scorse erano stati messi in giro. Nell'incontro si è parlato anche dell'indotto. Ci hanno garantito che nel decreto legge che sarà approvato nei prossimi giorni c'è la possibilità di garantire i lavoratori pagando le retribuzioni e evitando di sacrificare quel polmone professionale che in questo momento è importante. Avete parlato anche dell'indotto. Lei sembra che abbia dato delle garanzie almeno del suo impegno ovviamente. L'impegno c'è, bisogna trovare anche i soldi.